Gentili signore e signori, un cordiale buonasera e un benvenuto a questo dodicesimo appuntamento di aperture, attività culturali promosse dall'Ateneo Udinese. Prima di illustrarvi la figura del relatore, il professor Mauro Ceruti, che ringrazio, vorrei dare innanzitutto la parola all'assessore Giacomini che ci porta un saluto a nome dell'amministrazione comunale di Udine. Vi ricordo che queste iniziative, oltre che essere promosse dall'Ateneo Udinese, vedono la partecipazione del Comune di Udine e della Fondazione Crup. Prego assessore, grazie per la sua presenza. Grazie a voi, devo dire che è sempre un piacere essere presente in occasione di queste aperture, aperture appunto alla città. È sempre un piacere appunto venire qui e avere sempre uno sguardo innovativo e profondo sul nostro mondo e quindi l'Università conferma la sua vocazione sia appunto di rigore scientifico sia poi di servizio alla città. Per questo appunto ringrazio il magnifico rettore per l'impegno costante, i suoi delegati, in particolare appunto il professor Vianello per organizzare questi appuntamenti. Fra l'altro appunto oggi abbiamo una personalità di primo rilievo, appunto professore di filosofia della scienza, per me fra l'altro è un piacere particolare perché anche io sono laureato in filosofia a San Raffaele proprio su un tema di economia cognitiva e quindi insomma il tema è un tema fondamentale, quindi sarà un piacere per me aggiornarmi come mi capita di fare sempre, come capita a tutto il pubblico di fare un'occasione di queste aperture. Quindi grazie a voi e appunto porto i saluti a tutti voi del sindaco Onsel e di tutta l'amministrazione comunale e buon ascolto Grazie Assessore, do ora la parola al magnifico rettore professor De Toni che ringrazio per la sua presenza. Per me è un onore essere qua oggi insieme a Mauro Ceruti perché con Mauro Ceruti siamo incrociati sul campo, sul campo di interessi comuni che però è stato il punto d'arrivo di partenze molto diverse, lui è laureato in filosofia, io sono laureato in ingegneria e alla fine ci siamo incrociati sul campo comune della complessità. Ovviamente con percorsi diverse, con sensibilità diverse, però un po' diciamo la parola vera, un po' affascinati da questa prospettiva che ci aiuta ad affrontare i tempi di oggi. Il percorso lungo e articolato di Mauro Ceruti lo lascio magari dopo a Vianello eccetera, però noi ci siamo incontrati anche a varie volte contro la Bergamo, lui è venuto varie volte qui da noi, lo avremo ancora ospite a conoscenza in festa il 3, 4, 5 luglio perché è uno dei relatori di punta. Diciamo che lui ha avuto la bravura e anche la fortuna perché in questo ci vuole sempre di lavorare con Piaget prima e con Moren poi oltre a tanti altri, però insomma ecco, i suoi percorsi sono stati percorsi estremamente fertili. Io ho avuto modo di leggere non solo dei suoi libri ma anche i libri che Moren di fatto ha fatto su dei percorsi simili con lui. Di recente se non sbaglio avete scritto anche una cosa insieme uscita mi pare, non so se sul Sole 24, sul Corriere che mi ricordo, importante su questi temi dell'Europa eccetera. Ecco, io credo che il contributo che questi autori, parlo a plurale perché diciamo il gruppo che fa riferimento ormai a Moren è un gruppo ampio, diciamo Moren è una persona che ha avuto riconoscimenti internazionali notevoli eccetera e Ceruti, ecco se posso dirlo è diciamo una persona in Italia che forse lo rappresenta più di altri ed è sostanzialmente la persona che anche in questa riflessione sul tema dell'Europa, delle differenze e delle culture secondo me ci può dare un contributo. Ne abbiamo bisogno perché in effetti l'Europa di oggi è un'Europa più articolata di quella che erano i sei paesi fondatori e abbiamo bisogno di capacità di lettura e di comprensione ampia, quindi lo ringrazio di essere qui con noi, io mi auguro di non solo di averlo a luglio ma di poter continuare questa diciamo incrocio fertile, ringrazio qui Vianello perché diciamo questi incontri, queste aperture che hanno un nome secondo me appunto, nomen omen diciamo in latini, qui c'è un significato profondo, apertura dell'università, apertura della città, apertura del paese, apertura dell'Europa, io credo che come dice secondo il principio della termodinamica chiusi si muore e quindi benvenga a questo seminario, grazie di essere qua, complimenti. Grazie magnifico rettore, Mauro Ceruti come avete già sentito è professore ordinario di filosofia della scienza all'università Yulm di Milano, è indubbiamente uno dei principali artefici del pensiero della complessità ma ha anche contribuito a introdurre le teorie dell'evoluzione, dell'evoluzionismo nella cultura italiana. Pochi lo dicono, si è parlato molto giustamente di Moren, ma è stata la prima persona Ceruti che ha portato in Italia Stephen Jay Gould, uno dei più grandi biologi evoluzionisti, morto poco più di dieci anni fa e una delle menti più brillanti sul piano culturale di tutto il Novecento, per chi lo conosce e mi capisce. Egli chiaramente è stato tra l'altro anche, è giusto dirlo, senatore della Repubblica, dove ha cercato di svolgere e di introdurre tra mille difficoltà anche temi culturali, ma è soprattutto autore di numerosi contributi scientifici di altissimo livello e poi, questa attinenza con questa serata, anche di specifici splendidi libri di grande divulgazione scientifica. Ne ricordo solo alcuni, incominciando dal primo, che è anche oggetto della sua presentazione di questa sera, scritto a quattro mani con Edgar Moren, La nostra Europa, per Raffaello Cortina. Poi ha scritto da solo Il vincolo e le possibilità, sempre per Cortina, poi assieme a Bocchi La sfida della complessità, per Bruno Mondadori, e infine l'ultimo nato, l'ultimo parto, diciamo, è La fine dell'Oniscienza, per l'editrice Studium, uscito proprio nel 2014. Come vedete si tratta di una serie di libri di grande interesse che si può già percepire dalla lettura dei titoli. Ma veniamo ora al tema. Qual è Europa? Bene, la crisi dell'Europa, come sapete, ha una duplice ragione, una duplice causa. Da un lato, questa istituzione non è stata capace di progredire verso una maggiore unificazione, in altri termini, nel creare una istituzione metanazionale, che andasse oltre gli attuali confini. Dall'altra, la crisi economica, scatenatasi nel 2008, in maniera devastante, ha messo in ginocchio le economie di molti Stati, tra cui anche molti Paesi europei. Le risposte a queste sfide sono state solo balbettanti, di fronte alla scelta radicale che ci ha posto la situazione di favorire politiche o di rigore da un lato, come di fatto ha fatto l'Europa, guidata dalla Germania, come sapete, o lo sviluppo, come invece si è progredito negli Stati Uniti. Quindi due visioni diverse su cui, peraltro, stiamo ancora discutendo. L'attuale dibattito sulla crisi europea, privo di qualsiasi afflato ideale, purtroppo lo devo dire, rischia così di tramutarsi in una sterile litania. Di programmi che mirino a rilanciare l'istituzione europea verso una ricostruzione non vi è che qualche flebile segnale, che alimenta però solo una sterile pubblicistica. Forse ci manca il coraggio di costruire qualcosa di più inclusivo, capace di generare fiducia nei cittadini, nell'intento di costruire una nuova Europa. Questo nuovo slancio deve necessariamente trovare origine, scaturire, dalla constatazione della crescente e dilagante disuguaglianza che vi è tra i singoli stati dell'Unione Europea e tra i singoli cittadini all'interno dei singoli stati. Perciò si rende necessario, direi quasi inderogabile, un progetto politico basato sulla solidarietà, affinché l'Europa non divenga, ve lo dico con il cuore in gola, il commissario liquidatore di se stessa. Ma ancora più in profondità, ricorrendo al titolo di un recente libro dell'economista Giacomo Vaciago, dobbiamo e possiamo dire che noi dovremmo ricercare per questa Europa un'anima, un'anima per l'Europa. Questa è la sfida che io sento in questo momento. E allora in questo significato, in questo senso, sono fermamente convinto che Mauro Ceruti questa sera e il libro che ha scritto assieme a Edgar Morin, possano costituire per noi un importante passo per rivificare prima di tutto le radici della cultura europea, la quale, ribadisco, è l'unica a poterci fornire gli stimoli e i valori per trovare o ritrovare quella passione, quella passione europeista che sembra sia stata ormai smarrita. Tutto ciò a fronte di un'Europa che comunque da ormai 50 anni ci ha garantito una sostanziale pace. Ecco, questo è un po' quanto io mi sentivo di dirvi con il cuore, come avete capito, e questa è la sfida che io rivolgo ora all'amico Mauro Ceruti, anzi vi dico, uno dei miei più cari amici, permettetemi, questa licenza personale a cui cedo la parola in questo momento. Grazie Mauro. Grazie, innanzitutto grazie. Grazie per l'accoglienza, grazie Angelo per questa bella, profonda, che mi emoziona presentazione, grazie al magnifico rettore Alberto, grazie ad Antonella Riem, è una triunità da cui mi sono sentito convocato molto europea e che va nel cuore della questione, nel senso che questo dialogo fra una letterata, un umanista, uno scienziato naturalista, un ingegnere nel senso più nobile e profondo della tradizione europea, è in questo vortice che mi sento oggi davvero molto onorato di essere qui con voi. Grazie dunque. Quale Europa, che cosa è l'Europa? Entro subito nel vivo della questione. Farò uno, due, tre, quattro passi indietro e spero per andare avanti. E dichiaro subito il senso della mia riflessione di oggi, perché si tratta di una riflessione, di una riflessione filosofica. L'Europa è la filosofia e la filosofia è la cosa più concreta che l'Europa ha regalato al mondo. Fuori dalla filosofia non c'è l'Europa, non c'è la scienza, non c'è la politica. E il fatto che oggi l'Europa eluda la questione filosofica della propria identità per voler essere concreta e parlare di moneta è questo che la rende astratta. Fuori dalla realtà, fuori dal mondo. E quindi rischia di farle perdere la sua concreta identità. E dichiaro subito il senso della mia riflessione. E poi cerco di snocciolarlo attraverso una rapida rincorsa del sogno europeo che attraversa i secoli. Ma è una rincorsa attraverso i secoli che riguarda noi oggi qui. Innanzitutto l'Europa è una metafora della mente, della nostra mente. E la mente è una metafora della Europa. L'Europa ha inventato la mente. E l'Europa, con la filosofia e con la scienza, che ha inventato la mente. Certo, l'idea di mente. La riflessione sulla mente. E quindi la mente. E la mente inventata dall'Europa ha poi reinventato e costruito l'Europa. Non vi sembri astratto e speculativo questa dichiarazione iniziale. È molto concreta in questa ricorsività, quasi come in un quadro di Escher, che si è costruita e ricostruita l'Europa. E qual è il tema dell'Europa, della sua mente, della sua identità? Il tema dell'Europa, della sua identità è la tensione fra unità e molteplicità, fra identità e diversità. L'Europa è la storia della continua sperimentazione, al proprio interno, di questa tensione fra la sua unità e la sua diversità interna, fra la sua identità e la sua diversità interna. E questa tensione, nei secoli, attraverso l'Europa, è diventata oggi l'esperienza cruciale della condizione umana, della condizione umana tucur, della condizione globale dell'umanità. Tutte le questioni concrete che affrontiamo nel quotidiano hanno a che fare con questa tensione. L'ultima, quella provocata l'altro ieri, da Papa Francesco, agli armeni, i turchi, il conflitto di civiltà, che cos'è la politica, che cos'è la storia, che cos'è l'umanità. Questa è la premessa. Però sarà tutta una variazione su questo tema. Come si tengono insieme l'identità e la diversità, l'unità e la molteplicità nella questione Europa. Seconda questione, sarà un rapido susseguirsi di spunti. Poi il mio Presidente a un certo punto mi dirà, adesso basta, è come quando si sfoglia una cipolla, tutto quello che c'era da dire è stato detto, se no non si finisce mai. Domandiamoci dunque, come ci domanda il Professor Vianello, mi domanda, che cos'è l'Europa? Guardate, dico subito questo. A me piace giocare con le parole. E il gioco e la parola sono le due cose di cui è fatta l'umanità. Allora, se ci domandiamo che cosa è l'Europa, dobbiamo confrontarci subito con il fatto che l'Europa non è una cosa. L'apparente neutralità delle domande, che cosa è, che cosa è in questo caso l'Europa? L'Europa non è una cosa, innanzitutto. Addirittura mi sento di dire che l'Europa non è, punto. L'Europa non è. Come non è? Allora di cosa parliamo? L'Europa non è. Nel semplice senso che l'Europa, da quando si parla di Europa, da Euripide, l'Europa ha sempre da essere. L'Europa si è sempre declinata al futuro. Non si è mai declinata al presente, tantomeno al passato. Quando l'ha fatto, l'Europa si è imprigionata da se stessa e ha rischiato di inabissarsi, di perdersi, di non esistere. Quando l'Europa dice che cosa sono, chi sono e smette di declinarsi nel non essere, cioè del declinarsi come progetto futuro, finisce. Siamo in questo momento. Siamo in questo momento. La declinazione al futuro dell'Europa ristagna. Un grande filosofo del Novecento che ha non poco riflettuto sul chi siamo, sull'identità d'Europa. Edmund Husserl, in una delle sue due lexio magistralis in cui si domandava qual è, quale Europa, che cosa l'Europa, che cosa è l'Europa, nel 35, poco dopo poi sarebbe morto, tenne due lexio magistralis sul tema. Tu, Angelo, quale l'Europa, che cos'è l'Europa, a Praga e a Vienna, due capitali di questa domanda, chi siamo, che cos'è l'Europa, grazie soprattutto alla loro letteratura mitteleuropea, Antonella, disse e scrisse che l'Europa è un orizzonte infinito di compiti. Quindi alla domanda che cosa è l'Europa. L'Europa è un orizzonte infinito di compiti. È sfuggente. Ma siamo nella concretezza dell'Europa, fuori da queste declinazioni al futuro, definizioni progettuali, l'Europa non è. Insomma, l'Europa non è definibile, non è determinabile in una sostanza primaria. L'Europa è sempre incompiuta come un progetto ancora da realizzare. È ciò che la rende viva, l'essere un progetto incompiuto ancora da realizzare. E questa è la seconda dichiarazione. Due piccoli spunti, riflessioni, che lasciamo in epigrafe. Adesso li svolgiamo con degli spunti, senza troppe ambizioni. Innanzitutto l'Europa non è un territorio. L'Europa geografica è da sempre una e molteplice. L'Europa geografica non ha mai avuto un centro fisso. Nel corso della storia d'Europa i centri dell'Europa si sono spostati, nuovi centri si sono creati. L'Europa medievale ha spostato verso nord quel centro che per millenni era collocato a sud. L'Europa moderna ha accompagnato il suo dinamismo economico con una continua serie di decentrazioni e ricentrazioni. Venezia, Anversa, Genova, Amsterdam, Londra. Quindi l'Europa non ha un centro stabile. L'Europa anche ha frontiere fluide. Frontiere che continuamente hanno subito e subiscono slittamenti, rotture, trasformazioni. E queste frontiere sono, Alberto, un'apertura all'esterno, un prolungamento dell'Europa. Non ciò che contiene l'Europa, ma ciò che prolunga l'Europa. Le frontiere d'Europa sono una placenta alimentatrice dell'Europa. È importante anche costruire nel linguaggio un'estetica dell'Europa, un linguaggio adeguato. Sono una placenta alimentatrice. L'Europa, dunque, non è un'entità geografica, non è determinabile spazialmente attraverso dei confini. Innanzitutto, tante volte, soprattutto in questi due o tre anni, da quando abbiamo pubblicato questo piccolo saggio con Morenne, la nostra Europa, mi sono molto dedicato, rassegnatomi un pochino al fatto che nelle istituzioni classiche della politica è difficile riflettere in questo modo, ad andare nelle scuole, soprattutto le scuole, addirittura le scuole elementari, le scuole medie, dove è la domanda ai ragazzini, ma avete sentito parlare dell'Europa? Sì, sì, ma è dove? Perché è la geografia. Beh, senz'altro, la maestra ha ragione, l'insegnante ha sempre ragione. Però io vi dico una cosa strana che non contraddice quello che voi sapete. L'Europa non è un continente, perché mi dicono sì, è uno dei cinque continenti. L'Europa, proviamo a vedere la carta del mondo, la proietto, la terra, non è un continente. Guardate gli altri continenti, continente americano, australiano, africano. L'Europa, in effetti, da un punto vista geografico, è una piccolissima penisola del grande continente eurasiatico, una piccolissima penisola, eppure influente, ed è una piccolissima penisola che ha avuto una forza straordinaria a farsi riconoscere, identificare, come da voi, per esempio, i bambini, dico, ma anche da noi, come un continente. Perché è stato il luogo in cui in un vortice storico si è generata una civiltà inedita, ambivalente, che si è distaccata persino dal punto di vista territoriale, nella percezione estetica, dall'enormità del continente euro-asiatico. L'Europa, insomma, non è determinabile spazialmente attraverso i confini, non è un continente geografico in questo senso. Senz'altro non può definirsi attraverso una frontiera con l'Asia, dove la, diciamo, si è spostata, negli Urali, dove. Non può definirsi attraverso una frontiera con le Americhe. Perché quello che potrebbe sembrare l'unico continente solido, l'oceano, in effetti nell'età moderna della nostra Europa, è diventato il luogo dello sviluppo dell'Europa, del commercio dell'Europa. E i continenti americani sono stati chiamati le nuove Europe. E nuove Europe sono state chiamate anche l'Australia e la Nuova Zelanda. Quindi dal punto di vista anche spaziale, dove è l'Europa? L'Europa trascende sempre se stessa. E le nuove Europe sono state Europe importanti dello sviluppo d'Europa. ma soprattutto, mi esercito ora qualche minuto a riflettere insieme a voi su questa questione, l'Europa non ha una frontiera con l'Africa. Il Mediterraneo, che potrebbe apparire una confine, che oggi alcuni dicono è il confine delle civiltà, il luogo dove si gioca il conflitto delle civiltà. Solo una potente ignoranza può produrre queste idee. È molto europeo il fatto che per parlare di Europa ci vuole molta cultura. È molto europeo, non è snobismo, ci vuole molta cultura per parlare d'Europa. Ma una cultura che nasce dall'anima. Il Mediterraneo, dicevo, è molto antico dal punto di vista geografico. Il suo nome è recente, è stato coniato nel Settecento da noi europei. Nell'antichità, dall'Anatolia a Gibilterra, non c'era un mare. C'erano tanti mari. È quasi una metafora del noi, della nostra identità. Un'identità multipla, complementare e conflittuale nello stesso tempo. Una prima unificazione di quello che noi chiamiamo il mare Mediterraneo, come sappiamo, avvenne al tempo dell'impero romano, quando il mare Mediterraneo divenne mare nostrum, il nostro mare. Il Mediterraneo è stato il lago, altra metafora importante, il lago interno dell'Europa durante i secoli dell'impero romano, a indicare che non era un mare che separava, ma un lago all'interno di una terra unitaria, perché il Mediterraneo è proprio un mare triunitario, un mare tricontinentale, degli incontri fecondi e anche delle rotture tragiche fra l'est e l'ovest e fra il sud e il nord. E questi incontri e queste rotture sono la matrice dell'unità del Mediterraneo e della unidiversità, della pluriunità dell'Europa, che ha avuto nel Mediterraneo una sua matrice importante. Per questo oggi che il Mediterraneo, nel momento in cui l'Europa è diventata da centro motore del mondo, come è stato nei cinque secoli della modernità provincia del mondo, il Mediterraneo è diventato nuovamente un centro dell'Europa, oltre che un centro del mondo. Il Mediterraneo è un mare che porta in sé tante diversità e tanta unità, gli opposti. È un mare della fertilità e nello stesso tempo delle aridità estreme. È un mare di antagonismi e di complementarità. È un mare della complementarità conflittuale fra la misura e la dismisura. È la culla di tutte le culture dell'apertura, dello scambio, dell'avventura, il Mediterraneo. È matrice dello spirito più sacro e nello stesso tempo dello spirito più profano. È matrice delle religioni politeiste e di tutte le religioni monoteiste. I contrari. È matrice dei culti misterici che promettono la risurrezione dopo la morte ed è anche matrice delle saggezze che chiedono di accettare il niente della morte. si sono costruite insieme. È il luogo, il Mediterraneo, in cui in modo chiaro è nata la ragione, la razionalità, con la filosofia e la scienza antiche. E nello stesso tempo il Mediterraneo è rimasto anche un luogo di follia e di delirio. È esperienza dei nostri giorni, non è esperienza di due o tre mila anni fa. Insomma, il Mediterraneo è in certo senso un microcosmo rivelatore di tutto ciò che può emergere dall'essere umano e nell'essere umano. Come diceva dell'umano il filosofo, possiamo dirlo, del Mediterraneo e dell'Europa. Quindi nulla di ciò che è umano gli è estraneo. Nulla di ciò che è umano le è estraneo. Ed è in questa piccola regione del mondo che tutto ciò è accaduto. Nella storia umana una complessità di questo tipo non la ritroviamo. Non che questo sia un fattore di meglio o di peggio, ma è la specificità di ciò che intendiamo per Europa. Per Europa. E la storia del Mediterraneo come matrice dell'Europa è una storia di antagonismi, perché il Mediterraneo e attraverso il Mediterraneo l'Europa è fatto di incontri, di scambi, di meticciati. Fernand Brodel, uno dei più grandi narratori del Mediterraneo, considerava il Mediterraneo come la più straordinaria mescolanza di razze, di religioni, di costumi, di civiltà che la Terra abbia mai conosciuto. E oggi è ancora così, in questa piccola regione, come non accade in nessun'altra regione a tutt'oggi al mondo. Insomma, magnifico Rettore, il caos del Mediterraneo è l'immagine di una complessità. E la parola complessità, complexus latino, significa ciò che è intrecciato, che è insieme, un insieme di elementi estremamente eterogenei che sono associati nella complementarità e nel conflitto. Cartagine è stata distrutta per sempre. Eraclito, il filosofo presocratico, esortava a unire ciò che discorda e ciò che concorda. Pensate, no? L'animo umano, cosa riflette, cosa pensa, e non sono speculazioni astratte. Hanno a che fare con i drammi dei nostri giorni, che popolano le nostre paure e, ahimè, anche poche nostre speranze. E possiamo dire anche che il conflitto, questa complessità conflittuale, ha potuto essere integrato in maniera creativa nell'idea di democrazia che è stata generata. È un'idea della mente umana, dello spirito umano. Non è una procedura tecnica scontata, inventata così. È un'emergenza spirituale, l'idea di democrazia. E nella democrazia il dibattito gioca un ruolo centrale, è il cammino verso la verità. Non è un caso che democrazia e filosofia nascono grosso modo insieme ad Atene, più o meno nello stesso tempo. E, badiamo bene, la filosofia si definisce non solo come ricerca della saggezza, ma soprattutto come volontà di riflessione su tutte le cose. Ciò che oggi manca all'Europa. Manca, anzi. Manca, no? Anzi. Viene quasi interpretata come un intralcio alla decisione rapida, al cambiamento veloce. in un momento di crisi, cioè di passaggio, nel quale ad essere in gioco è la condizione antropologica, inedita, che ci troviamo a vivere. Per i dotti dell'umanesimo, di cui è direttamente figlia la nostra Europa e del rinascimento, alla domanda del professor Vianello che cos'è l'Europa, che cos'è l'identità della nostra Europa e la domanda dell'identità, anche oggi, è una domanda che rimanda a cosa? All'unum. All'uno. I dotti dell'umanesimo rispondevano con un'immagine plurale, con l'immagine di un edificio fondato su quattro colonne, un'identità multipla, non un'identità monolitica, una base unica dalla quale poi si concede qualche diversificazione. Il contrario, un'unità che emerge sulla base necessaria di quattro radici, che sono le tre grandi tradizioni monoteistiche, l'ebraica, la cristiana e l'islamica, e la radice classica, greco-latina, riscoperta dagli umanisti nel 400 e nel 500, però, vadiamo, dobbiamo ricordarlo, non direttamente, ma attraverso la traduzione araba, attraverso la traduzione della tradizione araba. Quindi, l'immagine delle quattro colonne era un'immagine dell'Europa come unità nella diversità e come diversità nella unità. E Paul Valéry ha definito proprio questa identità euro-mediterranea come una macchina per fare civiltà, una macchina per fare civiltà, ma nel senso, aggiungo io, che il Mediterraneo, l'Europa, hanno un genio matriciale nel senso di una matrice che genera, non è statico, che genera, che genera diversità, che genera diversità, è generativa continuamente di diversità. E l'Europa culturale, come l'Europa geografica, è una e molteplice, è sempre stata una e molteplice. In nessun altro continente molto più ampio del mondo troviamo, come in questa piccola, più o meno, entità storico-geografica, una tale quantità di diversità culturali. L'Europa è sempre stata una terra di culture locali diverse, irriducibili, eppure sul suolo europeo si è costantemente rigenerata una civiltà, un contesto comune nel quale le varie culture sono riuscite, oltre che a confliggersi, anche a dialogare. Dal Rinascimento e grazie al Rinascimento la cultura europea emerge in un vortice dialogico permanente che genera idee, aspirazioni, sogni, forme che si associano e si dissociano come voleva Eraclito. Da questo vortice che nascono la scienza, la tecnica, l'illuminismo, il romanticismo, e da questo vortice nasce uno spazio culturale, unitario e nello stesso tempo conflittuale che è trasnazionale e transculturale. in questa idea dell'Europa come spazio culturale, unitario e conflittuale nello stesso tempo, transecolare e trasnazionale di questa entità Europa, l'immagine più straordinaria, prodotto e produttrice dell'Europa è l'università. È l'università che è stata effetto e causa nello stesso tempo dell'Europa moderna e non in una maniera scontata, non ab inizio. Ricordiamo che Aristotele è arrivato in quella che sarebbe stata l'università italiana non direttamente ma attraverso Bagdad, attraverso Fez e ricordiamoci che la scienza è stata tenuta fuori dall'università, la Sorbonne arriva nel Settecento la scienza, non prima. L'Europa quindi non è un territorio, non è determinabile, non è se non un'entità storica in metamorfosi continua. Questa è la specificità dell'Europa. L'Europa è una civiltà, è un'entità storica in metamorfosi continua e l'Europa non a caso sfugge ad ogni ad ogni prospettiva, ad ogni definizione che vuole semplificarla per tante ragioni che ci potrebbe spiegare bene nelle sue radici antiche la professoressa Riem. L'Europa, l'identità d'Europa è ampivalente. Se noi crediamo di individuare un attributo autentico e originario dell'Europa trascuriamo il suo attributo contrario che è altrettanto europeo e questo nel bene e nel male è indicare che l'Europa è un'entità storica in metamorfosi continua ed è un laboratorio che ha sperimentato in tutte le ambivalenze possibili da quelle luminose a quelle tragiche la tensione continua fra la sua identità e la sua composizione in diversità irriducibile la sua unità e la sua molteplicità. l'Europa insomma è il diritto caracalla e poi ma è anche l'arbitrio non troviamo una civiltà che ha prodotto tanto arbitrio quanto l'Europa l'Europa è la democrazia ma è anche l'oppressione al suo esterno e al suo interno l'Europa è la dignità umana e il razzismo l'Europa ha inventato la tolleranza l'interesse per l'altro ma ha inventato la pulizia etnica e in questa ambivalenza costante che noi possiamo non esiste un'Europa candida un'Europa no l'Europa è la spiritualità e l'Europa è la materialità l'Europa è la misura e l'Europa è la smodatezza l'Europa è la ragione ma è anche il sogno e il mito non esiste insomma un'Europa chiara distinta armoniosa si è cercato di costruire anche questa visione irenica dell'Europa o si è cercato di pulire l'identità d'Europa riducendola la parola pulire pulizia purificazione è un'Europa è una queste parole questi aggettivi questi verbi sono un fantasma che attraversa tutta la storia dell'Europa in particolare la storia dell'Europa moderna quindi non esiste un'essenza europea che precederebbe ogni antagonismo fra le molteplici tensioni dell'Europa ed è proprio per questo che procedendo così a larghi passi spunti e informazioni civiltà e barbarie si sono intrecciati nell'Europa e in particolare questa ambivalenza questa tensione questo abbraccio costante che non a caso l'arte europea moderna rappresenta andiamo nella bellissima basilica di San Sulpice persino le mitologie bibliche o greche sono rappresentate attraverso forme ambivalenti la lotta fra fra Giacobbe e l'angelo che appare come un abbraccio d'amore o come un abbraccio di morte ci sono queste insomma dal 1492 che è una data che dovremmo ricordare raccontare e studiare meglio proprio nell'età globale perché è lì che nasce la globalizzazione l'Europa moderna unifica il mondo e civiltà e barbarie si sono intrecciate nella mondializzazione dell'Europa perché la mondializzazione la globalizzazione è stata di fatto per questi cinque secoli una mondializzazione dell'Europa e poi un'occidentalizzazione del del mondo nel cinquecento nel cinquecento insomma fu il secolo in cui iniziò un'età la globalizzazione caratterizzata dal crollo di barriere di separazione qui la recente conoscenza che ci è stata portata dall'evoluzionismo dalla paleontologia ci ha raccontato bene prolungando all'indietro le profondità del calendario umano sulla terra guardate che ancora all'inizio del cinquecento nella comunità scientifica non nel senso comune o nella comunità dei teologi coincidevano le datazioni l'origine dell'uomo l'origine del mondo e l'origine della terra erano coincidenti coeve e grossomodo iniziavano nel 4000 avanti Cristo Usher che era un vescovo anglicano ma anche uno straordinario matematico astronomo si peritò di calcolare l'esatto anno della nascita dell'uomo della terra e dell'universo e lo identificò nel 4004 avanti Cristo ma dati astronomici sofisticati osservazioni astronomiche e calcoli matematici sofisticati nello stesso modo in cui i grandi miti di civiltà che si ignoravano e così fino al 1492 da centomila anni che poi abbiamo saputo non erano quattromila anni civiltà nicchie ecologiche vivevano separatamente le une dalle altre l'incontro colombiano non fu la scoperta dell'America fu la scoperta della terra per tutti gli uomini nel bene e nel male la scoperta della terra e si produsse un vortice che produsse l'unificazione delle diversità fu la scoperta della terra e la scoperta della diversità di culture di dei di riti di forme sociali di virus vita e morte che un cocktail straordinario che chiamiamo globalizzazione ma fu una globalizzazione gestita dagli europei dagli europei dagli europei e oggi abbiamo l'opportunità la straordinaria opportunità di concepire la nascita anche di questa che chiamiamo globalizzazione negli ultimi 30-40 anni della mondializzazione nello spazio attraverso una messe di conoscenze straordinarie dal punto di vista biologico antropologico che sta emergendo da poco quando si dice dobbiamo studiare più storia contemporanea giusto nelle scuole fin da quando noi che abbiamo qualche anno in più ce lo diciamo ma nulla di più contemporaneo della storia antica dell'uomo perché è solo da un paio di generazioni che è entrata nell'esperienza vitale e pertinente di noi di noi contemporanei e quando e quando si sente dire anche lo dico senza nessuna saccenza o presunzione la politica deve occuparsi nella globalizzazione di gestire i conflitti lasciamo la storia agli storici e all'accademia è stato detto anche in questi giorni addirittura da un autorevole membro del nostro governo attraverso rispetto alla questione pericolosa ovviamente della reazione turca alle parole del Papa che dice una cosa di buon senso riconosciuta da tutti no attenzione attenzione la politica deve occuparsi della gestione diplomatica delle cose no ma nessun evento che accade nello spazio presente può essere compreso oggi anche da chi si occupa di gestione di economia e di politica senza una visione binoculare cioè profonda che abbia a che fare su ciò che sta sotto nel tempo nella storia come quando si dice che c'entra la Turchia con l'Europa come che c'entra la Turchia con l'Europa cioè la conoscenza oggi è indispensabile per creare una coscienza per creare una coscienza e quindi anche una una pratica il problema è che l'alterità già 500 anni fa quando scioccò i primi conquistadores europei fu minimizzata la diversità doveva essere ridotta tramite l'omogeneizzazione qui emerse l'anima indoeuropea curganica dell'Europa rispetto all'altra anima il carattere specifico d'altra parte dell'identità europea è la sua varietà nessun luogo al mondo anche più ampio contiene tanta diversità tanta varietà ma di confessioni di paesaggi di lingue di matrici di radici siamo anche al piccolo Friuli quanto a sua volta dentro di sé contiene di diversità quanto l'Italia contiene quanto l'Europa e queste ossessioni dell'espulsione dell'esclusione della conversione che cominciarono a prevalere nell'anima nella mente dell'Europa un polo dell'Europa nel nel seicento nel cinquecento e nel seicento portarono a costruire un paradigma della conquista verso l'esterno inteso come omologazione delle diversità in quanto unica strategia per renderle sostenibili a una strategia di reconquista che l'Europa portò verso se stessa verso se stessa verso l'esterno fu la conquista verso l'interno fu la reconquista lascio solo questo come spunto simbolo per ricostruire una storia complessa della nostra anima e della nostra identità attraverso l'ausilio dei numeri che spesso ci affascinano perché riassumono in sé tante cose il 1492 scoperta dell'America di fatto incontro colombiano scoperta della terra scoperta della diversità unificazione della terra su se stessa in tutte le ambivalenze nascita dell'espansione europea del mondo ma da dove dalla penisola iberica che allora era centro dell'Europa Spagna Portogallo ma nel 1492 dopo otto secoli di permanenza influente in Europa gli stessi regnanti che sponsorizzano Colombo pongono fine alla presenza islamica in Europa presenza che è una delle condizioni della nascita dell'umanesimo europeo perché attraverso la traduzione non solo araba ma culturalmente islamica che arrivano anche Aristotele e Platone in Europa e sempre nel 1492 sempre nel centro dell'Europa che conquista il mondo nasce la pulizia etnica gli stessi regnanti accolgono il progetto di ricerca di Torquemada e promulgano l'editto che impone agli ebrei che sono ancora più più di otto secoli da prima della diaspora del 70 avanti Cristo comunità spagnoli influente nella penisola iberica e come un frattale come un big bang la pulizia etnica si riproduce in tutti i grandi centri dell'Europa altrettanti centri si dimostrano accoglienti edgar morene figlio della diaspora sefardita che portò la sua famiglia ad essere accolta a Livorno e poi a Salonicco e poi lui è il primo parigino della storia di questa diaspora che poi ha fra i suoi Elias Canetti insomma gran parte della letteratura mitte l'europia gran parte ancora nel cinquecento però noi abbiamo in Europa un'ambivalenza straordinaria fra le tensioni nell'interpretare le tensioni fra unità e diversità ma guardate nel 1517 il grande maestro del rinascimento tedesco Johannes Reuchlin pubblicò il De Arte Cabalistica che dove veniva rappresentato il dialogo fra Filolao Pitagorico e Marrano musulmano e poi un cabalista Simone Beneliser e poi Francesco Giorgi qui a due passi frate Francescano di Venezia nel De Armonia Mundi esprimeva la sua profonda fede nella connessione fra l'agnosi ebraica e la dottrina ermetica degli antichi riletta attraverso uno sguardo cristiano sono costruzioni dell'immaginario europeo non scritti di piccole minoranze recluse in qualche monastero il mercante di Venezia di Shakespeare ci testimonia questa tensione di cui vi sto parlando tra identità e diversità nel mercante di Venezia dove viene immortalato il mondo della diaspora ebraica del Cinquecento che è un mondo ambivalente ebreo Shylock pieno di acrimonia per i torti subiti nel passato esce sconfitto dalla contesa che lo oppone ad Antonio riassumo bene Antonella un mercante di Venezia ma la sua sconfitta diventa uno strumento per suggellare e proteggere le nozze di sua figlia Jessica con il cristiano Lorenzo e Porzia eccetera eccetera la cabala Francesco Giorgi e poi Francis Bacon ecco tutto questo mondo l'unitas multiplex la complessità di questa nostra Europa rischia di essere praticamente annientato dall'età delle grandi guerre di religioni c'è continuamente un alto e un basso luci e ombre nella costruzione è un laboratorio che ruota tutto intorno come risolviamo questo problema della mia unità e della mia molteplicità interna della mia identità e della mia diversità interna e non solo diversità degli altri dentro perché questo è il problema delle organizzazioni questo è il problema non della diversità dell'organizzazione con cui competo ma della diversità mia interna che valore ha la diversità questo è il problema della biosfera questo è il problema della natura e l'Europa è un microcosmo che sperimenta continuamente nelle luci e nelle ombre nella tragedia e nell'invenzione di istituzioni di concetti di racconti questa tensione tipicamente antropologica fra l'identità e la diversità umana l'unità e la molteplicità la molteplicità umana la guerra dai 30 anni 1618 1648 provoca 5 milioni di morti e spopola quasi completamente il suolo tedesco e questa è una guerra fra le quattro colonne fra le confessioni religiose cristiane che porta anche in un impeto folle di iconoclastia alla distruzione in Inghilterra di un patrimonio artistico splendido irrecuperabile che non è solo una cosa da musei ma è una produzione di umanità per il futuro e come e qui lascio solo lo spunto perché nel 1648 finisce questa età delle guerre fra le diversità europee con la pace della Vesfalia e con la identificazione di un principio che poi sarà la base di un principio se volete che risuona come religioso ma che sarà la base della costruzione dell'Europa degli stati nazionali cui us regio e us religio il problema della diversità interna all'Europa lo risolvo separando le diversità e il principio ad ogni regione la sua religione che diventa per i sudditi non ancora cittadini quella del principe si sostituisce ben presto l'idea di stato fondata sull'idea di un territorio delimitato da confini stabili e rigidi definito al proprio interno da una omogeneità da costruire o ritrovare mitologicamente di tipo etnico linguistico religioso mai era esistita un'idea di questo genere nell'età degli imperi in Europa in quanto le due stanze politiche erano come dire il localissimo dei villaggi e l'universale del Papa e dell'imperatore ma i territori erano molto più simili a quelli della nostra età globale l'idea che potesse esistere un territorio demarcato per ragioni etniche linguistiche e religiose è un'invenzione della modernità europea per affrontare e dirimere il problema dell'identità diversità è un'altra tappa e questa è la storia di questi 100 200 300 anni la storia degli stati nazionali è la storia dell'Europa moderna ed è una storia ambivalente e come ogni storia d'Europa la nostra storia concerne la tensione fra unità e diversità identità e diversità gli stati nazionali sono stati ad un tempo integratori perché hanno all'interno di spazi intermedi fra il locale e il globale integrato delle diversità le diversità dell'Italia per esempio e nello stesso tempo sono stati distruttori distruttori verso l'interno e verso l'esterno distruttori di diversità interne come strategie di omologazioni e distruttori della diversità dell'altro attraverso la logica della guerra io tu in cui l'altro diventa quasi per definizione il nemico se non nemico ereditario pensiamo alla storia d'Europa che poi culmina nelle due grandi guerre definite mondiali ma meglio sarebbe definirle civili dell'Europa attraverso l'opposizione e contrapposizione dei due nemici percepiti siccome ereditari Francia e Germania e gli stati nazionali dal punto di vista antropologico questa è una storia antica Antonella hanno un contenuto che non può essere demandato soltanto alla filosofia della politica o della diplomazia o dell'economia è un'invenzione antropologica è un'emergenza antropologica ambivalente anche qui non è solo luce non è solo ombra hanno un contenuto che è nello stesso tempo moderno e arcaico cioè la dico solo così in una battuta perché mi piace lasciarla come spunto di riflessione per il futuro scusatemi la professoressa Riem ma per tutti noi anche un contenuto gli stati nazionali che è nello stesso tempo moderno perché nascono come invenzione della modernità e si rafforzano soprattutto nel tempo della rivoluzione industriale sono inscindibili ma anche un contenuto arcaico arcaico cioè gli stati nazionali non possono essere pensati concepiti anche nel loro successo perché nascono dal nulla rispetto a quello che diventeranno hanno un aspetto mitologico estremamente caldo che si contrappone al raffreddamento delle società che si costruiscono attraverso la rivoluzione industriale e questo sentimento caldo degli stati nazionali è espresso molto bene dall'idea e dal sentimento della patria della patria che è un'invenzione moderna degli stati nazionali e patria è una parola ermafrodita è una parola che porta in sé sia la sostanza materna che la sostanza materna è una parola che declina padre al femminile ma guardate che le parole le parole sono sono importanti e addirittura vi aggiunge l'appellativo materno madre madre patria no è forte questo no e porta in sé le due anime dell'Europa post-indoeuropea porta in sé l'amore e la protezione della madre per questo rinasce il sentimento della patria anche oggi fuori tempo massimo ma dal punto di vista nazionalistico ma importante dal punto di vista delle comunità che è legata alla terra al focolare il nuovo focolare e nello stesso tempo porta in sé l'autorità protettrice del padre che è incarnata nello Stato nell'esercito nell'identificazione nella protezione dal nemico e nella costruzione peraltro del nemico perché l'invenzione del nemico l'invenzione della sovranità assoluta dello Stato nazionale è assoluto noi che grazie anche agli arabi siamo radicati nella latinità vuol dire sciolto sciolto da ogni vincolo e la giustificazione il fatto di rendere giusta la guerra come reazione all'invasione alla violazione della sacralità dei confini che contengono e chiudono l'identità del focolare quindi però insomma questa è la storia moderna nella quale dell'Europa si propagano due malattie fondamentali che quelle che oggi risorgono che sono la purificazione omologatrice che è quella del pogrom ma è anche quella della logica della costruzione della omogeneità interna degli stati nazionali e quella dei programmi scolastici anche dei nostri beneamati che contengono tanto di buono però e l'altra malattia è la sacralizzazione delle frontiere esterne fra gli stati sono queste due ideologie queste due patologie che si sono possessate dell'Europa e che poi sono sfociate nelle due grandi guerre civili e nel 45 l'Europa moderna questa Europa era morta schiacciata dalle sue rovine e allora e qui vi do due o tre suggestioni e chiudo e allora che l'idea europea una e molteplice questa forma mentis è una forma mentale pensare insieme l'uno e il molteplice l'identico e il diverso non è scontato non è scontato l'idea europea una e molteplice e si potremmo dire come hanno raccontato bene i poeti e i romanzieri soprattutto della mittele europea uscì dalle nubi in cui era rimasta esiliata nell'età della possessione delle due malattie e trovò una prima incarnazione certo parziale esitante nelle intuizioni impreviste imprevedibile dei grandi padri costituenti dell'Europa che però erano usciti dal terrore della lotta contro il nazismo contro i fascismi dalle catastrofe dei 40 milioni di morti in pochi anni e che non a caso erano tutte grandi personalità ma con identità multiple De Gasperi era italiano ma era stato nel Parlamento austriaco e Schumann erano personalità con identità molteplici come anche tutta questa questa terra e quindi nacque una nuova prospettiva quella che come ci ricordava in modo molto emozionato e emozionante il professor Vianello prima è quella che ha garantito settantanti di pace che sono rivisti un inedito un'improbabilità assoluta nella storia della dell'Europa e questa nuova prospettiva era proprio non più l'omologazione ma la valorizzazione delle diversità non più le semplificazioni imposte dalle maggioranze dominanti ma la complessità dei mosaici e degli intrecci etnici non più la compressione delle molteplici identità individuali e collettive ma il loro riconoscimento e il supporto al loro pieno sviluppo e sono nate leggi istituzioni poi sono i diritti umani i diritti della donna i diritti dei bambini ma sono emergenze antropologiche straordinarie non è che e che noi stiamo dando per per scontate e oggi per chiudere anche se questa è l'indicazione che è la vera riflessione che dovremmo fare oggi l'Europa è ancora in pericolo rischia la paralisi rischia la disgregazione i nazionalismi e i localismi la minacciano all'interno si delinea l'aspetto di nuove purificazioni etniche o etnico religiose la politica nei confronti dei migranti è un'autentica catastrofe umanitaria non solo per i migranti ma rispetto al nostro sistema immunitario cioè culturale il rischio è una nuova virulenza delle due malattie dell'Europa moderna la pulizia etnica la purificazione anche quella strisciante non c'è bisogno e l'assolutizzazione e l'assolutizzazione dei confini assistiamo lo scatenarsi combinato di due calamità per l'umanità la prima è l'unificazione astratta omogeneizzante che distrugge le diversità che distrugge le diversità e lo vediamo a tutti i livelli dalla biodiversità di cui potrebbe raccontarci il professor Vianello alla diversità culturale alla diversità delle organizzazioni guarda come fai consulenza oggi e come facevi consulenza 15 anni fa sulla complessità la diversità è un valore oppure adesso sì però stiamo attenti stiamo attenti la seconda calamità è l'opposto è il ripiegamento su se stesse delle singolarità delle identità singolari che però diventano anche loro astratte perché si astraggono dal resto dell'umanità distruggono l'unità e senza la relazione chi siamo nulla no insomma viviamo ancora siamo tornati a vivere nell'illusione che l'identità sia una indivisibile mentre è sempre una e molteplice un'unitas multiplex non pacifica necessariamente fatta di conflitti la storia d'Europa per questo oggi che l'Europa è debole fragile provinciale può essere forse per la prima volta una grande chance oltre che per se stessa anche per il mondo proprio perché è debole non è più boccata alla conquista insomma la storia d'Europa attraverso la sua tragica ambivalenza che vi ho suggerito però ha elaborato una cultura una coscienza addirittura delle istituzioni capaci di riconoscere che la diversità è il tesoro dell'unità umana insomma è la diversità non solo fra ma dentro ciascuno di noi insomma la civiltà europea ha prodotto l'idea che ogni individuo possiede è una panoplia o panoplia di personalità multiple che permangono virtuali che possono attualizzarsi ha prodotto l'idea attraverso la sua psicologia la sua storia la sua antropologia la sua psicoanalisi il suo romanzo soprattutto attraverso il suo romanzo moderno dal Don Quixote a oggi che ogni essere umano è un cosmo che ogni psiche moltiplica idee fantasmi sogni importante entrare dentro se stessi per affrontare sfide comuni inedite che ognuno vive dalla nascita alla morte una tragedia insondabile scandita da crisi di sofferenza di gioia di riso di lacrime di esaltazioni di grandezze di miserie e questa autocoscienza autocomprensione che attraverso la cultura l'Europa ha regalato a tutto il mondo il romanzo e il cinema che tanto ci hanno aiutati sono invenzioni dell'Europa dell'Europa moderna potrebbe aiutarci di fronte a queste soluzioni semplici che ricorrono oggi nei confronti dell'altro miserabile come se noi fossimo immuni dal potere cadere in questa stessa miseria mentre stiamo andando alla deriva come sonnambuli siamo entrati nella guerra del 14 altrettanto come sonnambuli rischiamo allora davamo per scontata l'inevitabilità della guerra ora rischiamo di dare per scontata l'inevitabilità della pace e rischiamo di incagliarci insomma che ognuno porta in sé tesori manchevolezze abissi porta in sé la possibilità dell'amore della dedizione dell'odio e anche del risentimento che sono sentimenti rinascenti e la cultura europea racconta che riconoscere tutto questo significa riconoscere l'identità umana questo è molto concreto c'è bisogno di un'educazione alla comprensione umana di cui anche la questione della conoscenza deve farsi carico però vale anche il converso che la storia europea la storia con la sua tragica ambivalenza ci ha regalato prodotti a partire dalla scienza stessa culturali che ci hanno fatto capire che non solo la diversità è il tesoro dell'unità umana ma che anche l'unità è il tesoro della diversità umana le due cose insieme le due cose insieme come sperimentiamo anche noi nella nostra esperienza biografica e le differenze nate dalle diversità delle lingue dei miti delle culture delle economie hanno occultato l'identità bio antropologica comune che oggi abbiamo la possibilità di conoscere e questa conoscenza non possiamo lasciarla fuori dai luoghi in cui si governa il futuro dell'umanità globale e locale tanto più che oggi il primo effetto della globalizzazione cioè l'incontro fa sì che le chiusure protettrici di ogni cultura chiusa su se stessa hanno ormai effetti perversi nella nostra età planetaria i frammenti dell'umanità oggi sono in una comunicazione reciproca cioè sono diventati però inquietanti e ostili gli uni agli altri proprio per il fatto di questa comunicazione che è diventata inevitabile e differenze fino ad oggi ignorate hanno preso forma di estraneità di insanità sono fonti di incomprensione c'è bisogno di un'educazione alla comprensione umana e questo è il bisogno fondamentale ma non è un bisogno di anime belle un bisogno concreto politico economico spirituale e quindi abbiamo la necessità primordiale proprio attraverso l'esperienza drammatica anche di noi europei di contribuire attraverso il laboratorio che noi siamo in vivo perché lo siamo stati lo portiamo nel nostro DNA identitario culturale di disoccultare di rivelare l'unità umana l'identità umana gli universali antropologici insomma dobbiamo ritrovare e portare a compimento l'unità dell'umanità che è la sfida che ci viene o andiamo in questa direzione oppure è la fine no? questo è anche perché e questa è l'idea generale che per primo fra tutti mi ha mi ha suggerito Ernesto Valducci poi l'ho studiata tanto con Edgar Morin ci abbiamo riflettuto tanto è questa chiudo con queste due idee metaforiche brevi brevi due minuti c'è una discontinuità nella storia umana che noi oggi sappiamo essere molto più lunga dei 6.000 anni che pensavamo fossero il calendario della storia umana fino all'età dei nostri nonni sostanzialmente no? Homo sapiens è su questa piccola terra da 170 200.000 anni però è all'interno di una storia umana cioè di omini da 8-10 milioni di anni e però porta in sé la storia della vita sulla terra centinaia di milioni di anni eccetera eccetera ecco però c'è una discontinuità nella nostra storia che è sempre in quel 1945 che non a caso è stata rimossa rimossa non dai politici dagli economisti ma quasi in una grande freudiano psicoanalitico sforzo di rimozione psicoanalitico voi sapete che l'individuo umano a differenza degli individui animali e vegetali è l'unico individuo che può suicidarsi no? e che quindi in certi momenti della vita ha bisogno di complesse costruzioni relazionali spirituali affettive intellettuali per dire sì alla vita che pure ha sul piano biologico questo dato importante oggi però nel 1945 forse la più straordinaria invenzione della mente umana la tecno-scienza come un effetto collaterale della rivoluzione quantistica ha prodotto la bomba atomica detta in soldoni che utilizzata per forfine alla seconda guerra mondiale ha prodotto un'evidenza antropologica inedita e straordinaria per la prima volta l'umanità la specie umana è diventata una specie potenzialmente suicida e il più straordinario artefatto che l'umanità ha costruito ma fin dall'epoca del suo nomadismo senz'altro dal dopo la costruzione delle città e quindi degli eserciti la guerra quando ero ragazzo ho fatto l'obiettore di coscienza quando qualcuno che poi ho scoperto anche essere saggio mi diceva ma guarda civis pacem parabellum mi indignavo la mia candida volontà morale mi faceva prescindere dalla comprensione di quanto davvero fosse vero che nella storia umana la guerra è stato uno strumento di pace una sorta di applicazione del catecon della tradizione ebraico cristiana cioè del male minore ma oggi è l'esercizio militare del modello cognitivo e sociale più sofisticato e sperimentato Alberto cioè il gioco a somma zero vinco io perdi tu vinci tu perdo io tutti i giochi politici militari economici persino sentimentali affettivi nella storia vinco io perdi tu vinci tu perdo io e persino la guerra totale la soluzione finale poi portava a una nuova pace a un nuovo fiorire secondo magari un'eterogenesi dei fini di una civiltà con la bomba atomica noi sappiamo e con la sua distribuzione addirittura poi dopo la fine della guerra fredda disseminazione chissà dove anche in piccole potenze al di fuori dei controlli delle diplomazie dell'ONU e sappiamo che la prossima guerra mondiale condotta fino alle estreme conseguenze sarà la prima guerra in cui non ci saranno vincitori e vinti ma solo vinti no abbiamo sperimentato questo terrore nel 63 con quella baia dei porci che oggi dopo tanta tensione si scioglie forse con la stretta di mano fra il fratello di Castro e Obama e questo perché ci sarebbe una distruzione di quelle condizioni della biosfera compatibili con la sopravvivenza dei grandi mammiferi e non della vita to cure ma quindi anche nostra no per cui l'umanità si trova inserita in una sorta di una condizione inedita in cui la pace così studiata pensata proprio dalla cultura europea perché la diplomazia eccetera non è più soltanto come già tutto sommato aveva intuito Kant a suo tempo anche se non c'erano le condizioni di struttura non è più soltanto un valore morale il pacifismo ma è quasi una necessità biologica e noi siamo proprio come dire sguarniti e come se dovessimo ricominciare a pensare il paradigma della nuova condizione a questo proposito Edgar Moreno ha coniato nella sua genialità linguistica l'espressione abbiamo dobbiamo costruire e seguire una sorta di Vangelo della perdizione fare ci riconosciamo legati tutti in una comunità di destino in un destino comune che è fondato sul fatto che siamo tutti legati dallo stesso pericolo e la necessità del sottrarci al pericolo di una morte comune che deve sollecitarci ad inventare un paradigma inedito giochi a somma positiva in cui tutti più o meno vinciamo perché o ci salviamo tutti insieme o ci perdiamo tutti insieme e l'Europa in tutto ciò è il laboratorio singolare che ha sperimentato tutte le forme della tensione fra identità e diversità perché questo è il gioco ha saputo anche trovare attraverso la tragica ambivalenza delle sue vicissitudini le più straordinarie forme creative per pensare per vivere la diversità nell'identità e l'identità nella diversità questa è la caratteristica dell'Europa nel momento in cui l'Europa è debole e per questo la fragilità dell'Europa che rischia di definirsi come al presente non al futuro come un territorio non come un progetto come una fortezza e non attraverso la membrana fluida dell'apertura del Mediterraneo quando riflettiamo su tutto ciò sulle ambivalenze della nostra Europa moderna i suoi pericoli i suoi lasciti creativi pensiamo soprattutto alla scienza e alla filosofia e poi all'arte della politica raramente quasi mai pensiamo e abbiamo pensato all'altra terza grande invenzione dell'Europa moderna che è stato il romanzo la lasciamo figuriamoci lasciamo la storia agli storici e non ai politici figurati se non lasciamo il romanzo alle anime belle o al tempo perso e allora chiudo con un omaggio e una battuta a un grande romanziere mitteleuropeo del nostro tempo che ha dato una definizione del romanzo che mi sembra anche una bella definizione della nostra Europa quali Europa tutta declinata al futuro il romanzo è dice questo grande romanziere del nostro tempo l'eco del riso di Dio l'eco del riso di Dio e dice c'è un bel come possiamo definirlo Luigi proverbio ebraico che dice l'uomo pensa Dio ride Dio che ha creato l'uomo poi lo prende anche in giro perché ride Dio il romanzo è l'eco del riso di questo riso di Dio quindi vedete la circolarità quanto rispetto dell'uomo ha questo Dio che sorride dell'uomo e ride per tre ragioni perché l'uomo pensa e la verità gli sfugge è l'esperienza della nostra modernità europea poi per una seconda ragione più gli uomini pensano e più il pensiero dell'uno si allontana dal pensiero dell'altro è la nostra Europa è la nostra università l'uomo non è mai quello che pensa di essere straordinario in questo romanziere che si riferisce a un proverbo ebraico e che cita Dio che ride dell'uomo quando pensa ecco è all'inizio dell'età moderna della nostra Europa che questa condizione umana emerge e si rivela all'uomo e si rivela all'uomo in una nuova autocomprensione non soprattutto e neanche tanto attraverso la scienza e la filosofia che sono due grandi invenzioni dell'uomo moderno per affrentare la tensione questa è la tensione tra identità e diversità dentro ciascuno di noi tra unità e diversità nella comunità umana è il romanzo che la rappresenta quando Don Quixote e Sancio escono di casa non trovano più Dio a garantire la rappresentazione della loro centralità nel mondo si sentono persi e cominciano a pensare e più pensano più la verità del mondo e anche la verità di sé svaniscono è geniale questo romanzo e tutti i romanzi che si inanellano sono un'indagine che rappresenta questa condizione umana sono davvero l'esito più luminoso e più realistico e politico per affrontare il nostro tempo e questo grande romanziere definisce il romanzo poi in una cifra se volete meno poetica metaforica ironica come lo spazio unitario immaginario in cui nessuno è possessore della verità e in cui ciascuno ha diritto di essere compreso ecco questa è l'idea della nostra Europa che ho cercato di rappresentarvi e che dobbiamo conservare eliminando l'aspetto oscuro che attraverso la nostra esperienza abbiamo pagato sulla nostra pelle abbiamo fatto pagare alla pelle di uomini donne e bambini di tante parti del mondo e che oggi proprio in questo piccolo laboratorio della nostra Europa caratterizzato dalla sua fragilità può riemergere come un'anima feconda da regalare con umiltà a tutti coloro che incontriamo grazie grazie Mauro per questa splendida relazione che ci ha tenuti tutto questo tempo con il fiato sospeso dico la verità dai contenuti veramente alti e nobili grazie 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 a tutti